A proposito di mercato, vi ringrazio per averci raggiunto Brunello Rosa, CEO Rosa Rubini Associates, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Io partirei proprio dai riflessi del conflitto in Ucraina sui mercati, ovviamente resta in primo piano, si guarda al negoziato che si terrà oggi ad Istanbul tra le due delegazioni Mosca e Kiev, ma guardando un po' a quello che è successo in passato, di fatto da Pearl Harbor ad oggi, secondo alcuni dati che hanno ripercorso tutti i vari conflitti, le varie crisi geopolitiche, di fatto l'S&P 500, prendendo come esempio questo indice, ha impiegato 22 giorni in media per toccare il fondo e 47 per recuperare. Ora, la domanda che sorge spontanea e vorremmo conoscere il suo punto di vista è ora a che punto siamo, insomma, se il peggio è passato o se potrebbero esserci bruschi sell-off nelle prossime settimane come le abbiamo vissi nelle scorse. Allora, i dati sono grossomodo corretti nel senso che ovviamente c'è generalmente un brusco calo seguito da una lenta ripresa e questa lenta ripresa tende ad avvenire molto prima della fine del conflitto, in particolare la Seconda Guerra Mondiale testimoniò questa dinamica, ma l'abbiamo vista anche in conflitti più recenti e in questo caso io vedrei una situazione abbastanza analoga, nel senso che non appena il mercato percepisse che si va verso la fine del conflitto in una qualche misura, probabilmente inizierebbe un rialzo ininterrotto. Siamo vicini a questo ancora o no? Non necessariamente, cioè prima delle dichiarazioni di Biden a Varzavia e prima ancora quelle così un po' estemporanee a Washington in cui gli è stato chiesto se Putin fosse un criminale di guerra e a Varzavia ha detto che Putin non può rimanere al potere, era possibile immaginare eventualmente anche una qualche forma di accordo tra la Russia e di Putin e le potenze avverse dell'Occidente. Dopo questa dichiarazione è più difficile immaginare che si possa fare un patto con Putin, che è stato descritto in quella maniera lì, il che fa presupporre che o c'è un cambio di regime a Mosca e quindi si instaura un regime con cui si può trattare, oppure il conflitto è destinato a durare ancora a lungo e Biden stesso ha detto ci prepariamo a un lungo conflitto. Il che vuol dire che purtroppo nelle prossime settimane qualche brusco sell-off a mio avviso è ancora possibile. A proposito di Mosca, di fatto resta ancora rosa sull'orlo del default, si avvicinano due nuove scadenze che sono anche più cospicue a livello proprio di ammontare rispetto a quelle passate, le andiamo a vedere insieme perché si tratta di quella del 31 marzo, mancano davvero pochissimi giorni, quando Mosca dovrà pagare 359 milioni di dollari su un bond al 2030 e poi attenzione al 4 aprile quando scade un'obbligazione da 2 miliardi di dollari. Le chiedo le sue previsioni. Allora, una settimana circa fa Mosca è riuscita a pagare quasi contro ogni previsione questa cedola da 117 milioni, facendo tra l'altro un trasferimento su una banca americana di Londra, il che in qualche modo vuol dire che le sanzioni in qualche modo sono state un po' non dico aggirate, ma si è chiuso un po' un occhio per preservare i creditori internazionali. Se questa è l'ottica con cui si stanno muovendo, diciamo così, gli occidentali, è possibile che se Mosca ha i denari per fare questi pagamenti verranno in effetti effettuati, effettuati e quindi il default non dovrebbe avvenire. In questo momento non è che Mosca sia a corto di riserve, perché fin tanto che ha un prezzo del petrolio e un prezzo del gas così alti, siamo in realtà all'Occidente che sta finanziando in qualche modo la guerra. Il ban sull'importazione del petrolio e del gas ancora non è stato esteso a tutti i paesi e non è in effetti ancora operativo. Quindi in realtà è più una scelta da parte dei creditori e delle potenze occidentali se vogliono che la Russia faccia il default oppure no. Fin tanto che le riserve ci sono, il pagamento può essere effettuato. L'ultima volta che la Russia ha fatto un default verso i creditori esterni è stato nel 1918, subito dopo la rivoluzione d'ottobre. Quindi è un evento abbastanza raro. Rosa, grazie di essere con noi. Vorrei rubare anche un consiglio per quanto riguarda l'investimento soprattutto nella composizione di un portafoglio e quindi la parte di reddito fisso, perché l'abbiamo visto, la curva cosiddetta dei rendimenti si è avvertita tra i cinque anni e il trentennale. Allora è d'obbligo una prima domanda se anche lei teme che questo possa preludere a una recessione o meno. Però poi io volevo chiederle, questi movimenti bruschi che si stanno osservando nel reddito fisso come incidono poi sulla composizione di un portafoglio? E la terza domanda riguarda non tanto l'America ma il Bund, perché anche il Bund è a un livello che non si vedeva da tempo, 0,60. Ve lo faccio vedere in questo momento, il livello lo vedete 0,605%, anche questo è un rendimento che significa che gli investitori lo guardano con particolare attenzione in questo momento. Secondo lei se la merita, perché voglio dire cosa c'è anche da parte della Banca Centrale oltre all'inflazione ovviamente che cresce anche in Europa? Sì, allora, un punto per volta, allora, inversione e la curva. In una fase in cui ci sono, diciamo così, rischi di stagflazione i tassi a lunga scadenza si alzano per i timori inflazionistici ma anche per il ridotto apporto delle banche centrali all'acquisto dei titoli di Stato e la parte a breve si alza perché ci sono attese di rialzi consistenti da parte delle banche centrali in un momento in cui la curva si sta comportando in modo così segmentato direi non guarderei in modo così automatico all'inversione della curva come elemento di predizione necessario di una recessione. La direi un po' così. Se la banca centrale americana, così come le altre banche centrali, ma in particolare la Fed rialzasse i tassi veramente sette volte quest'anno con possibili incrementi da 50 basis point e iniziasse il QT come si dice, cioè la riduzione del balance sheet già a maggio sarebbe una politica molto restrittiva che certamente va a impattare l'inflazione positivamente ma avrà anche un impatto sulla domanda aggregata. Quindi in realtà se la Fed facesse tutti questi rialzi uno non potrebbe necessariamente escludere che una recessione avviene non tanto per la guerra e i timori così ma per l'impatto della politica monetaria. Quindi per rispondere alla sua seconda domanda io non andrei così fuori dal reddito fisso ancora nel senso che a dispetto di quanto viene paventato dal mercato e dalle stesse banche centrali è anche possibile che ex post tutti questi rialzi non avvengano e quindi ci sia un po' di relief rally, diciamo così, sia nella parte breve che la parte lunga della curva il che vuol dire che un approccio bilanciato equities bond secondo me è la cosa migliore in questo periodo. Terza parte della sua domanda sul Bund mi pare del tutto evidente che il Bund a lunga scadenza viene impattato da un livello di inflazione che in Europa non si vedeva da decenni in particolare in Germania che è addirittura superiore alla media europea diciamo dai tempi della nascita dell'euro e quasi della rionificazione il che vuol dire che chiaramente c'è un'enorme attenzione da parte degli investitori su quello che la banca centrale europea può fare hanno già finito di fare il PEP, hanno accelerato il tapering potenzialmente a fine giugno chiaramente tutto questo viene scontato dalla parte a breve e anche evidentemente dalla parte a lungo della curva. Ecco Rosa, le rubo in un flash perché poi andiamo in pubblicità soltanto un'ultima considerazione ha parlato lei della riduzione degli acquisti da parte delle banche centrali per ora lo spread, il nostro spread, il differenziale italiano-tedesco resta inchiodato intorno ai 150 punti temiamo di più nel momento in cui non c'è più il supporto della banca centrale a comprare i titoli, che cosa dobbiamo aspettarci? Sì, il rialzo dello spread è di fatto una testimonianza del fatto che evidentemente il debito che è stato emesso e quello che ancora verrà emesso per far fronte agli effetti della guerra per esempio per ridurre le accise sui carburati e così via evidentemente non tutto quell'extradebito potrà essere assorbito dalla banca centrale europea il che vuol dire che il mercato già questo l'ha scontato quindi in questa fase la mancata protezione da parte della banca centrale in parte è già stata prezzata dal mercato se però la BCE dovesse accelerare ulteriormente come è possibile a giugno i suoi piani e quindi in realtà finire gli acquisti netti a giugno e possibilmente fare un rialzo o magari anche due entro fine anno temo che lo spread si alzerà ulteriormente verso i 200 punti base se invece le cose rimanessero più o meno come pianificato dovrebbe rimanere più o meno attorno al livello corrente ringraziamo Brunello Rosa per essere stato con noi Brunello Rosa, CEO di Rosenrubini Associates e quindi